Allora, buonasera a tutti, così almeno siamo inclusivi, o con la schwa ma non riesco a dirla bene, quindi preferisco l'asterisco immaginato. Anzi, buonasera a tutte, visto che siete maggiormente donne e si adattano i maschietti questa sera. Benvenuti al Mercato Crespi e allo spazio off campus per questa serata di Book City, dal titolo Sostenibilità di quartiere. E nella descrizione dell'evento si parte da una serie di domande, no? Cos'è una città? Cosa cercano e desiderano le persone che vivono in un contesto urbano? Come possiamo migliorare la qualità della vita cittadina? E mi sono detto, partiamo già con delle domande, ma mi sembrava il minimo, avendo una platea di, anzi un panel di filosofi e designer, che insomma, se non si parte con loro da delle domande per trovare delle risposte, non saprei da che parte iniziare. Il tema di cui parleremo oggi, qui off campus, in occasione di Book City, è quello della sostenibilità e della vivibilità urbana. Noi siamo in un contesto, quello di Nolo, questo quartiere, densamente abitato, molto vivo e ricco di contraddizioni. Alcuni lo designano come quartiere periferico, ma per chi ci abita, come il sottoscritto, è anche Davide. Quando sentiamo il termine periferico è un po' così, straniante, perché ci sembra di essere uno dei centri di Milano. La rivoluzione che stiamo vivendo nella nostra città è quella di avere tanti piccoli centri. E lo sviluppo di questo quartiere è sicuramente ancora in atto, come lo è quello di molte altre zone di Milano. Come possiamo quindi pensare a un processo partecipato, sostenibile e sicuro del nostro quartiere e della nostra città? Possiamo pensare a una Nolo utopica, dove tutti i cittadini sono felici di vivere in questo contesto e in questo momento o in momenti futuri? Un po' questa è la domanda che mi sono posto quando ho chiacchierato con i quattro presenti qua, che vi presento subito. Sono Roberto Mordacci, preside della Facoltà di Filosofia del San Raffaele, professore ordinario di Filosofia Morale. Francesca Pongiglione, professoressa associata di Filosofia Morale della Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele. Davide Fassi, professore associato del Dipartimento di Design Politecnico di Milano. L'abbiamo fatta apposta, metterli un po' di qua, un po' di là così, continuo a girarmi molto comodamente. E Virginia Tassinari, ultima ma non per ultima, ricercatrice del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. E i libri da cui partiamo per chiacchierare questa sera sono due. Uno lo farò dire direttamente a Virginia, così evito. Uno è Ritorno a Utopia di Roberto Mordacci e l'altro invece è... L'altro è Design in Dark Times and Arendtian Lexicon. Ecco, forse verrà meglio lo dicessi, no, sto scherzando. Questo qua. C'è un filo conduttore tra questi due volumi, lo scopriremo poi piano piano mentre andiamo a scoprire la serata, andiamo a scoprire il dibattito. Partirei però prima nel presentarvi velocemente insieme a Davide lo spazio che ci ospita. In realtà lo spazio che ci volevo ospitare, ma essendo più di un tot e per regola anti-covid non possiamo stare all'interno, che è Off Campus. Quindi Davide, se ci puoi spiegare brevemente di cosa si tratta. Grazie Riccardo. Off Campus fa parte di un progetto del Politecnico di Milano, che si chiama PoliSocial, che è un programma di responsabilità sociale del Politecnico e che cerca di portare al di fuori degli spazi confinati dei campus il campus stesso, quindi le competenze del design, dell'architettura, dell'ingegneria. Questo è il secondo che abbiamo inaugurato nel secondo quartiere interessato dagli interventi, il primo a San Siro, in un complesso di case Aler, invece questo in un mercato comunale. Siamo aperti dall'anno scorso in piena pandemia e quello che facciamo è progettazione col territorio, quindi aiutare gruppi informali, associazioni, singoli cittadini che hanno delle idee e aiutiamo a svilupparle attraverso le nostre competenze. È anche una buona occasione per gli studenti di fare tirocinio, di sviluppare tesi e di fare un'esperienza sul campo prima di entrare poi nel mondo del lavoro. Due progetti principali, uno è il vocabulario di quartiere, di cui oggi Virginia poi ci parlerà, e l'altro è Spesa Sospesa Nolo, che è un progetto invece di solidarietà, insieme a Radio Nolo, che ospitiamo nei nostri spazi, e che è una radio di quartiere di cui appunto Riccardo è direttore. E mi tocca l'ingrato compito di essere direttore di questa radio di quartiere, Radio Comunitaria. Allora, io partirei da una cosa che ha scritto Roberto nel libro, ci diamo del tu questa sera, ve lo dico, perché siamo comunitari in tutti i sensi, e a pagina 35 di questo libro che vi consiglio di leggere c'è scritto L'utopia non corrisponde soltanto al bisogno di fuga da un presente percepito come inaccettabile, bensì ancora di più al desiderio di darsi un modo di vita sociale migliore, nel senso di meno ingiusto e meno infelice. E a me piace questo passaggio perché un pochino rivedo anche quello che noi viviamo nel quartiere a Nolo, ma anche a Milano dopo l'Expo, insomma tutta la spinta che abbiamo avuto, cercare di vivere meglio una città che ai più sembra grigia, fatta di palazzi sulle città, poi tutta la gente dice, ah Roma è bellissima, Milano la bisogna scoprirla piano piano, no? Allora, questo rapporto tra l'utopia, l'immaginare un quartiere, una città, diversa da qual è, e il fatto di viverci anche bene, come si lega? Qual è il filo conduttore tra queste due cose, Roberto? Grazie, ciao a tutti. L'elemento fondamentale secondo me consiste nel realismo della nozione dell'utopia, che è una battaglia persa che ho ormai combattuto da alcuni anni, cioè la nozione dell'utopia per noi si lega all'idea del fantastico, all'idea del futuribile, e all'idea dell'impossibile. In realtà chi legge Tommaso Moro ha la percezione che quando lui ha coniato il termine, l'idea di avere a che fare con esseri umani normali, che vive in una società gradevole, giusta, organizzata bene e comunitaria, il profilo più utopico è questo elemento della comunità. Però, appunto, anche il nostro immaginario gioca in modo strano con questa parola, se noi pensiamo a una città utopica abbiamo subito un tipo di immaginario fantascientifico, molto spersonalizzato, grandi grattacieli, mobilità strana, magari anche una mobilità molto green, però comunque quella mobilità che appunto non ha agganci col terreno, sta per aria. Se io dico quartiere utopico, noi stiamo immaginando subito una rete di relazioni solidali, una rete di persone che si conosce, una rete di attività, ne avete citate due, prima il cibo e le parole, progetti di quartiere, questi sono i progetti di quartiere. Allora, questo secondo me è l'aggancio, cioè l'utopia è partire dalle realtà concrete e reali nella quale sei, rintracciare ciò che non va, ciò che è la criticità, i bisogni, i problemi, e pensare contrario, cioè pensare, usare l'immaginazione per immaginare come superare la criticità, fare quello che la criticità ci impedisce di fare. Quindi è sempre questo l'elemento, il gancio è partire da ciò che, dove viviamo, non va e vorremmo andasse meglio, e lanciarsi, cuore altra l'ostacolo, lanciarsi e cercare di farlo andare meglio, in qualunque modo ci riesca di farlo. Questo è l'utopia, molto meno che un design in senso meramente, diciamo così, politologico, filosofico, idealistico, paratonico. Ecco, se c'è una cosa che voglio dire, è che Platone, quando scrive La Repubblica, non scrive un'utopia. La Repubblica non è un'utopia, è una città perfetta, una città ideale, che non avrà mai riscontro nella realtà. L'utopia di Tommaso Moro, invece, è una speranza, un auspicio piuttosto realistico. Aveva pensato a no, lo Tommaso Moro. Evidentemente, un po' quando pensi utopia, e vivi anche la realtà del quartiere, ti immagini una persona che vede qualcosa laddove non c'è ancora, no? Faccio un esempio. A Milano si stanno ribaltando le piazze, sostanzialmente, cioè si stanno creando piazze laddove adesso ci sono incroci molto pericolosi. Ne abbiamo un esempio proprio qua vicino, fuori da una scuola, c'era un incrocio molto pericoloso, e i bambini uscivano alle 4 di pomeriggio rischiando la pelle ogni volta, hanno creato una piazza, e nessuno di noi avrebbe mai immaginato, nessun cittadino abitante del quartiere avrebbe mai immaginato una piazza in quel quacervo di vie, una cosa impossibile da immaginare. Invece adesso c'è. La cosa anche divertente poi delle utopie che si realizzano, chiamiamole così, è che poi la gente non si ricorda più come era prima, no? Quanto era pericolosa, da per scontato che questa ormai sia la nuova normalità. E qui entra in campo invece proprio il concetto di operare nel quartiere, cosa che abbiamo cercato di fare con il vocabolario di cui adesso parliamo con Virginia, e che opera insieme a Davide all'interno di off-campus ogni giorno per trasformare in qualche modo il quartiere in cui viviamo. Sì, diciamo che la necessità di lavorare su un vocabolario di quartiere è venuta anche iniziando delle conversazioni, le conversazioni che abbiamo iniziato anche con te Riccardo, con la redazione della radio, immaginandoci anche una modalità per aiutare i cittadini a identificare degli interessi comuni. E devo dire, io sono in questo progetto anche un pochino con un background mio di filosofia, quindi mi portavo un po' l'esperienza di Anna Arendt, l'idea di Anna Arendt che identificare gli interessi comuni in qualche maniera ci aiuta a passare all'azione. Quindi l'idea del vocabolario di quartiere è di mettere assieme voci diverse su temi identificati dai cittadini stessi proprio per permettere quest'operazione di identificazioni di interessi comuni. Quindi capire cos'è che ci unisce, cos'è che è tra di noi. Anna Arendt parla del interesse come ciò che ci lega. Quindi l'interesse, diciamo, comune come l'orizzonte da cui poi deriva anche l'interesse privato. Questa è una cosa che ci dimentichiamo. Pensiamo che quando uno dice la parola interesse uno fa i propri interessi. Invece i nostri interessi non possono essere fatti se non pensiamo prima ma la collettività. Quindi un po' quest'idea anche del dire la collettività nella collettività uno trova anche qualcosa di suo. Qualcosa che anche gli restituisce forse un po' il senso proprio dell'essere umano per quanto sia contestualizzato, per quanto sia fallibile in divenire. Quindi un po' l'idea del vocabolario di quartiere è dire ok, che cosa vuol dire davvero identificare interessi comuni nel quartiere? Cosa vuol dire identificare delle parole che ci portano ad agire? Quindi per noi non era semplicemente il parlare. Quindi abbiamo creato appunto assieme a Radio Nolo assieme ai cittadini utilizzando anche il fatto che off-campus appunto anche ospiti Radio Nolo questo podcast che mette assieme queste dieci parole che voi vedete all'interno dell'off-campus che hanno identificato i cittadini stessi mettendo assieme punti di vista diversi sulle stesse parole. E a seconda appunto della parola scelta gli aiutiamo anche a fare quello che noi chiamiamo in termini tecnici dell'envisioning che vuol dire che cosa vorrebbe dire se veramente questi interessi comuni se noi agissimo per incontrare questi interessi comuni cosa vorrebbe dire se noi creassimo assieme dei nuovi spazi pubblici per esempio che potressero in qualche maniera essere positivi vissuti come spazi positivi per diversi tipi di cittadini per i bambini ma anche per gli anziani ma anche per gli stranieri quindi creare delle visioni creare delle narrazioni che permettano di immaginarci questi futuri alternativi e anche di immaginarci delle azioni concrete che ci possono portare a questa trasformazione nel quartiere. Roberto ma tu prima dicevi che l'utopia non è qualcosa che sta nel futuro giusto? Cioè è una cosa ben radicata nel presente anche se non ancora attuata come può un cittadino pensare al futuro ma agire nel presente? Cioè fare in modo che l'utopia non rimanga sulla carta secondo te? Cioè tu sei un cittadino no? Abiti a Milano immagino Io abito a Milano Ecco caliamolo nel Al Morivione il mio quartiere è il Morivione sud zona sud Ok quindi sei esattamente dall'altra parte Oltre ai Navigli Ok sei fuori dalle colonne d'Ercole praticamente per noi come noi lo eravamo per i cittadini di cittacentro diciamo Ecco come fai tu? Come agisci tu? Come cittadino? Beh allora a parte intanto nei quartieri esiste una vita di quartiere che uno frequenta senza saperlo cioè cammina per strada si trova nei negoziati poi dipende come sono fatti i quartieri ci sono quartieri che non ti consentono questo perché sono o quartieri molto di passaggio oppure quartieri troppo centrali dove in realtà poi come succede anche Milano un po' sta subendo questo destino delle città americane il centro si svuota è un centro business dove poi la sera però non c'è nessuno nel centro di Milano un po' è così quindi cosa fare? Significa stare in quella realtà consentendo a se stesso di darsi lo spazio di incontrare le persone di avere dei colloqui dove sto io c'è la social street per cui c'è una pagina facebook e questa cosa è vivacissima anche ogni tanto butto lì delle provocazioni o perché mi serve l'idraulico o perché ho qualcosa da offrire mio figlio studia chitarra potrebbe insegnare chitarra e butto lì la cosa sottolineo idraulico onesto perché nella nostra social street non lo social district che è esplosa e poi da qui è nato un po' tutto io e Davide ci siamo conosciuti lì c'è tra di noi anche il fondatore della social street Daniele Dodaro là dietro lo vedo di solito la postile è falegname onesto dentista onesto anche di solito questi post vengono bannati perché si parte dall'idea che sia onesto questo forse è un po' troppo utopico però vabbè eh sì forse è un nudge cioè io non lo scrivo perché così do per scontato che tu sia onesto e quindi tu sarai onesto ecco il nudge secondo me anche se è un concetto diciamo che ha una sofisticazione di altra natura più dinaria economica però è un po' questo cioè è la realtà del presente quella che genera le utopie cioè non è immaginando qualcosa che io non vedrò o che chiede 30 40 50 anni per essere realizzato che io faccio qualcosa è immaginando e realizzando qualcosa che posso vedere realizzato entro sei mesi se c'è un progetto un po' più lungo anche 2-3 anni ma è questo il modo di realizzare le utopie i progetti troppo a lungo termine hanno le gambe corte perché le persone sono purtroppo molto legate questo è un tema che Francesca Pongini conosce bene troppo legate alla propria visione interna alla propria lifespan no? alla propria durata di vita per questo è così difficile convincere le persone ad avere comportamenti sostenibili perché stiamo parlando di qualcosa che ancora adesso diciamo riguarda 40-50 anni e le persone non sono agganciate da questo cominciano a essere agganciate perché qui tra 40-50 anni noi magari non ci siamo i nostri figli sì e quindi la cosa diventa ci tocca diventa tangibile però diciamo la programmazione a breve non è un male in questo tipo di realtà perché si comincia dal piccolo a fare l'utopia anche questo è paradossale si pensa che l'utopia si disegna a tavolino e si disegna tutto insieme invece no si comincia dal frammento l'utopia parte dal frammento ecco la serata che stiamo vivendo oggi ha il titolo sostenibilità di quartiere adesso abbiamo analizzato un po' il concetto di quartiere quartiere utopico come possiamo proiettarci in una cosa che adesso non vediamo ma che filosofi e designer stanno immaginando da una vita passiamo alla parola sostenibilità che è l'altro grande tema enorme che con gli anni 2000 si è affacciato ma anche prima e Francesca tu ti occupi di sostenibilità da tempo del concetto di sostenibilità e un po' il tredunione è questo cioè le utopie che diceva Roberto troppo grandi troppo grosse spesso vengono imposte vengono calate dall'alto quello che dicevi anche Platone una società bellissima però in cui i cittadini non trovavano sede non c'era cuore non so come altro dirlo quindi c'è anche il rischio che questo concetto di sostenibilità dove una persona può stare bene economicamente nell'ambiente e così via venga imposta e non sia costruita quindi fatta per e non con questo è un po' il rischio no? Sì possiamo dire che sia un rischio anche se secondo me soprattutto come dire la luce della trasformazione che sta avendo una città come Milano ma anche altre città nel mondo secondo me in realtà quello a cui stiamo assistendo è proprio la confutazione del fatto che la sostenibilità sia qualcosa che arriva dall'alto che soprattutto che funziona solo se arriva dall'alto perché per un po' di tempo proprio oggi mi hanno chiamato per compilare una sorta di opinione su delle politiche ambientali che si focalizzavano sulle misure di taglio delle emissioni con un aumento del prezzo del petrolio essenzialmente una misura che più top down di questa non c'è la sostenibilità come invece la viviamo oggi che è quello che sta modificando le nostre città è qualcosa che parte dal basso è qualcosa che coinvolge le persone è il passo di cui parla Roberto è un passo per volta perché alla fine per troppo tempo ha prevalso anche in economia un po' l'idea che l'essere umano fosse la creatura autointeressata che perseguivo i suoi interessi e che quindi qualunque tipo di norma dovesse tenere conto di questo aspetto dell'essere umano guarda che tanto tutti si faranno i propri interessi quindi tutti protesteranno di fronte all'aumento del prezzo invece quello che noi vediamo è che non è così perché come ha notato un economista che però è anche un grande filosofo che è Amartya Sen c'è anche scritto un libro sopra che si chiama The Idea of Justice l'essere umano non è solo questo cioè non è soltanto una creatura autointeressata ma è anzi soprattutto altruista amante della comunità dipendente dai rapporti interpersonali cioè è questo l'essere umano e quindi in realtà secondo me la chiave della sostenibilità è la social street è la vita di quartiere è la piccola cosa perché io pure abito in un quartiere dove c'è una social street attivissima ragazzi sono pure troppe iniziano a farsi la guerra che è Solari ok dove c'è ad esempio una cosa che mi piace tantissimo che è un'idea fortissima di circolarità di scambio di qualunque cosa io anche ho bambini piccoli ho scambiato e regalato l'impossibile perché c'è l'idea diamo una nuova vita alle cose quindi ci passiamo le cose in 6-7 mani diverse però è anche questa la sostenibilità alla fine qua l'ultima volta stavano cercando di dare in adozione dei criceti non so sull'enolo social district non so come sia andata poi a finire la storia però il tema gattini i criceti in adozione è meraviglioso insomma è anche una lotta a randagismo non dei criceti chiaramente ma di cani e gatti su questo non ci sono dubbi in questo caso effettivamente il nostro quartiere è abbastanza esemplificativo di un urbanismo tattico di un lavoro di creazione di spazi non calati dall'alto e Davide Fassi ne sa qualcosa infatti volevo chiedere un po' di esempi concreti che abbiamo avuto nel nostro quartiere di questa sostenibilità che però richiede anche molto sforzo perché è una progettazione che passa per tante mani per tante teste bisogna coniugare un po' molti pensieri no? se mi viene ancora da ridere per i criceti a me piace pensare che alla fine siamo delle comunità di progetto abbiamo citato più volte le social street il social district sono anche forme nuove fluide più fluide più leggere rispetto al mondo associazionistico che ti permette poi di fare tante cose in maniera molto semplice mi piace chiamare le comunità di progetto che contribuiscono poi alla sostenibilità del vivere in generale quindi sociale economica ambientale perché sono gruppi di persone che si trovano intorno a un'idea lanciano una proposta e creano però poi le condizioni per fare questa proposta per renderla reale per trasformare l'idea in progetto allora si parla tanto di comunità creativa di comunità di luogo secondo me c'è proprio questo emergere delle comunità di progetto e lo vediamo perché siamo in un momento in un contesto territoriale come quello di Milano dove hai un buon compromesso totalmente perfettibile però hai già un buon compromesso fra le azioni top down e quindi quelle della governance gli strumenti che vengono messe a disposizione dal governo del territorio e le azioni dal basso quindi associazioni gruppi informali eccetera penso a il bilancio partecipativo il crowdfunding civico i patti di collaborazione il piano dei quartieri sono tutti strumenti che noi forse a Milano andiamo anche un po' per scontati ormai che però poi quando esci di qui non è che sono proprio così alla portata di tutti invece qui hanno dato la possibilità proprio di immaginarsi una città e poi di renderla fattiva Nolo ad esempio in questo in questo senso ha diverse progettualità che poi si sono messe in atto citavi prima la piazzetta all'incrocio dei cinque vie piazza arcobalena uno dei primi interventi di urbanismo tattico sicuramente super discusso per un uso improprio notturno ma un uso diurno molto molto vissuto cioè di tanta socialità i tavoli da ping pong le panche per sedersi la gente che va a fare le signore che vanno a fare la lana insomma così come anche l'intervento della pista ciclabile su via Le Monza piuttosto che via Rovereto ringrazio del parco Trotter tutte iniziative che sono nate da idee di gente che si è incontrata online sullo social street e poi si è trovata offline per provare a cambiare e a rendere un po' migliore il contesto in cui vivono nel proprio quotidiano abbiamo un po' il convidato di Pietra il tema della cittadinanza attiva chi immagina ci sono i progettisti ci sono gli idealisti ci sono quelli che dicono armiamoci e partite che sono gli utopisti ci sono quelli invece che poi si armano e fanno veramente e quindi i cittadini attivi sono attivi in ogni caso secondo me perché anche la buona idea poi da quella chissà il fiumiciattolo che cosa può creare c'è un caso recentissimo ve lo volevo sottoporre perché è divertente stanno cercando dei volontari per ritinteggiare riqualificare una zona qua vicino in via Pontano il tunnel boulevard vogliono fare una sorta di galleria di street artist e così via e chiedono volontari per ritinteggiare rimbiancare no? facile cittadinanza attiva chi vuole venire si beve un bicchiere di tè in compagnia e si fa un lavoro tutti insieme si conoscono anche persone nuove è una buona occasione la cittadinanza è talmente attiva che a un certo punto uno dei commenti è la manutenzione degli spazi pubblici è lavoro e si paga punto cioè c'è sempre qualcuno che ti fa capire qual è il rovescio della medaglia anche in maniera un po' cruda diciamo ecco Francesca come si gestisce una cosa di questo genere perché da una parte se si è troppo aperti e partecipativi entra dentro un po' di tutto e c'è anche il caso che si venga frenati nel fare qualche cosa perché a un certo punto uno dice se io devo prendermi un sacco di improperi se propongo qualcosa dall'altra parte invece c'è ti impongo dall'alto qual è la giusta mediazione in questi casi? tu avevi parlato anche quando ci eravamo incontrati di ecodittatura no? cioè di imporre delle cose delle buone pratiche che ormai sono di uso comune la differenziata è una di queste però ecco c'è uno spazio intermedio tra Tana libera tutti e invece ti impongo qualcosa? è una domanda difficile perché in realtà secondo me l'iniziativa che viene dal basso non andrebbe mai frenata cioè il Guastafeste che dice pagami non ha capito lo spirito della cosa nel senso che non siccome tutto quello che nasce dall'iniziativa spontanea è chiaramente l'espressione di quello che è anche un bisogno condiviso un desiderio condiviso e quindi benvenga ecco cioè il limite che vedo io è semplicemente l'iniziativa nel senso che nel momento in cui io devo imporre alle persone per favore vami a ricolificare quel territorio quel parco perché io comune di Milano non ho i fondi da metterci non vogliono è una questione però quando è l'iniziativa delle persone secondo me quella può essere libera proprio aperta vai ovviamente se non confligge con altri valori domini esercizio di libertà altrui ovviamente però nel senso se qualcuno mi viene a dire voglio riqualificare il tuo palazzo perché è brutto non mi piace il colore verde quindi vengo lo dipingo di rosa ecco allora qua è un'altra cosa però fin tanto che si parla di uno spazio pubblico che viene condiviso che viene migliorato allora secondo me il limite è questo uno degli strumenti che abbiamo messo in atto scusa Roberto vai scusami è acceso è acceso sì no la cosa che qui diciamo il potere le istituzioni devono fare è di non lasciare sole queste iniziative spontanee cioè di andare ad ascoltarle perché l'errore che si fa in politica molto spesso è quello di dire va bene adesso prendo la ritaglia e ribalto come un calzino e qui è il top down allora senza sapere nulla di quello che c'è sul territorio allora le iniziative spontanee nascono spontaneamente dopodiché hanno bisogno spesso di un sostegno e di un riconoscimento se il comune o lo stato non riconosce queste attività non gli dà un riconoscimento pubblico e un sostegno quando è necessario quando è utile allora è chiaro che poi si crea la dialettica o fate come dico io oppure questa iniziativa spontanea deve morire non ha senso ed è più importante un atteggiamento di questo tipo perché parte dall'ascolto anziché partire dal progetto astratto o platonico certo mi piace questo ruolo di professore posso aggiungere professore certo sì sì vada professore dottoressa no io penso che lì stacco un po' il nostro ruolo come designer infatti volevo chiederti questo cioè era la domanda che volevo farti quali strumenti per evitare di appunto imporre sì allora bene ovviamente si parla di partecipazione la partecipazione ovviamente viene vista anche a volte in maniera un po' semplicistica dare l'idea di imporre qualcosa quindi a volte non parlo assolutamente del caso in Milano io vengo da un'esperienza più nord Europa in cui il rischio è quello di chiamiamo del participatory washing quello che chiamano i participatory washing decidiamo come città qualcosa lo imponiamo i cittadini facciamo finta di attivare dei processi partecipativi e poi non ascoltiamo quello che vogliono davvero i cittadini quindi il rischio c'è secondo me quello che vedo non lo dico perché adesso sono a Milano ma lo dico anche quando sono in Belgio quello che vedo succedere qui invece è davvero diciamo una città che si interessa veramente di cosa vogliono i cittadini e di cittadini che in qualche maniera incontrano la città per esempio partecipazione sono chiaramente uno strumento che permette anche questo dialogo in una maniera più costruttiva e può esserci il nostro ruolo designer come facilitatori di questo meet in the middle quindi di questo incontro tra le iniziative top down dei cittadini e le politiche invece più scusate bottom up dei cittadini e le politiche più top down diciamo delle città io penso che le città siano sempre più consapevoli dell'importanza di questo e che ci sono anche delle forme che sono anche state teorizzate di welfare che stanno cambiando in questo senso cioè Michelle Bowens parla del partner state del relational state quindi nuove modalità di welfare state dove è chiaro che i cittadini giocano un ruolo però anche è chiaro che questo non diventa una maniera per le istituzioni per fregarsene e lasciare tutto in mano i cittadini e penso che lì come designer noi abbiamo degli strumenti per facilitare questo dialogo io guardo adesso Davide perché è quello che lui fa da tantissimi anni esatto un po' scusa Virginia un po' mi viene da dire che si sta ritrovando il senso civico cioè quell'elemento di mezzo tra i singoli cittadini e la gestione più alta che può essere il comune lo stato la regione qualsiasi altro ente noi ci venga in mente noi ci sentiamo parte di una comunità civica e ci muoviamo anche senza volerlo e senza anche neanche coordinarci in un'unica direzione difficilmente troviamo persone che non vogliono le piste ciclabili poi si può discutere su come si fanno le piste ciclabili chi è qua contro le piste ciclabili vada tranquillamente fuori dal mercato crescere però ci sono gli oppositori Davide e tu nel lavoro che hai fatto e che stai facendo all'interno del nostro quartiere spesso nei tavoli di lavoro nel design partecipato nelle serate infinite che si fanno fino al mezzanotte trovi delle difficoltà nel far partecipare far capire quali sono gli elementi positivi di una trasformazione del quartiere ci puoi portare un po' a terra e dirci un po' quali sono stati i casi più eclatanti oppure qual è stato il lavoro più forte che tu hai fatto sul quartiere con il tuo team ovviamente preferisci la serie di imprechi che abbiamo ricevuto mentre dipingevamo la piazza oppure gli insulti durante no diciamo che mi rilancio a quello che diceva Virginia siamo in un momento in cui non si può rimanere solo a guardare e non si può sempre aspettare che sia l'altro che sia dall'alto che qualcuno fa cambi le cose quando si parla di cittadinanza proattiva si intende proprio questo il fatto che sento l'esigenza di migliorare il posto in cui vivo e cerco di approfittare anche del fatto che posso mettermi insieme a un sistema di persone e posso anche essere ascoltato o posso avere supporto da una serie di strumenti che ci sono a disposizione quando questo poi accade è chiaro che si formano poi delle forme cosiddette nella letteratura di agonismo il fatto che si contrappongono delle esigenze diverse e inevitabilmente hai quello che ti dice lo spazio pubblico deve curarlo il comune perché è un lavoro che deve essere pagato o quello che ti dice non togliermi il parcheggio sotto casa perché io dal mio balcone devo vedere la mia macchina cosa che poi sono successe nei vari dibattiti che abbiamo avuto soluzione io non credo che ci sia la soluzione è il fatto di continuare a raccontare cioè continuare a far vedere a raccontare il punto di vista quando Virginia ha iniziato a fare il vocabolario di quartiere non era tanto con l'idea di arrivare a una descrizione unica di cosa è lo spazio pubblico di cosa è il degrado di cosa è il senso di appartenenza ma proprio di creare delle conversazioni intorno di diversi significati che in qualche modo si confrontano e così ti succede anche quando fai un intervento di spazio pubblico vi ero vereto ingresso per il parco trotter se vi capita anche dopo di fare due passi e qui dietro l'angolo è stato un progetto proprio esemplificativo di una proposta fatta durante un bilancio partecipativo di provare a attrezzare i marciapiedi con delle sedute con dei giochi per bambini calmirare il traffico permettere le biciclette ricircolare liberare i marciapiedi dal parcheggio abusivi e una piazza vera e propria occupata dalle macchine tutto questo ha portato a una sperimentazione di un anno un cantiere partecipato dove ci siamo messi a costruire più di 40 ruole dove poi altre persone hanno portato le piante curato per nove mesi lo spazio 150 persone coinvolte nella costruzione una sperimentazione è durata nove mesi e poi oggi sa per finire il cantiere della trasformazione invece sul lungo termine quindi definitiva questo ovviamente all'inizio porta un confronto appunto un dissenso delle persone che ci abitano che ti dicono ma come tu cosa stai facendo qua a casa nostra solo perché magari abiti nella via di fianco oppure ma come tu stai trasformando questa cosa a noi va bene così nonostante ci sia il triplo parcheggio sul marciapiede dopodiché a distanza di un anno sono gli stessi che ti dicono ah però esco di casa e posso camminare in un marciapiede largo ah però qua piantumeranno degli alberi e quindi questa strada diventerà più vivibile quindi è sempre un po' questa mediazione fra quello che ti succede subito e quindi sei contro e quello che succede poi invece dopo un tot di tempo e che ti fa capire le cose che possono anche essere viste da un altro punto di vista allora chiuderei con una domanda Francesca un po' più alta diciamo perché la domanda che mi faccio e parte dalla frase che mio padre mi disse quando gli dissi voglio studiare filosofia no tutto tranne che filosofia mi disse è in tutti questi discorsi che poi facciamo e che incidono sulla nostra vita perché io esco di casa e trovo una strada pedonale e dico ah per fortuna non rischio più di essere investito oppure trovo un mercato che sta rinascendo dopo tanto tempo in tutto questo dialogo cittadinanza sostenibilità utopia abbiamo detto tante parole qual è il ruolo del filosofo lo so che è difficile te l'avevo premesso però il designer ormai è stato sdoganato cioè possiamo dire che nel 2021 se anche mia mamma chiedi ah cosa fa il designer si lo spremi a grumi questo è il massimo che può arrivare mia mamma però le voglio bene per quello chiaramente se chiedo a mia mamma cosa può fare a un filosofo la crisi totale ok quindi la domanda è cosa possono fare i filosofi per aiutarci in questo percorso ma secondo me i filosofi possono fare molto e non lo dico soltanto da filosofa ma la filosofia di fatto o perlomeno un certo tipo di filosofia è anche quella che studia il contemporaneo cioè studiamo i fenomeni che sono attorno a noi osserviamo il modo in cui evolvono le società in cui evolve il modo di vivere una città e così come dire riusciamo più o meno a guardare la direzione verso cui si spostano le persone verso cui si muovono quindi passiamo ad esempio da un paradigma in cui un paradigma antropologico in cui si considera l'essere umano una creatura dotata di determinate caratteristiche a paradigmi diversi tanti sono stati i passaggi nella storia del pensiero in cui i filosofi si soffermavano più su determinate tematiche cioè tutta l'età moderna è stata caratterizzata da un grosso filone di pensatori che si chiedeva qual è il modo migliore di organizzare uno stato qual è la forma di governo migliore la democrazia la monarchia che tipo di di forma di governare gli individui qui a Nolo siamo per la monarchia te lo dico no giusto perché si sappia perché siamo poco democratici quindi è da sempre in realtà che i filosofi si chiedono come si può vivere meglio ok qual è il modo migliore di organizzare una società e quindi in realtà non abbiamo cambiato anche noi continuiamo a farci le stesse domande anche perché le risposte sono sempre in movimento le risposte cambiano in continuazione insieme al modo in cui cambiamo noi però è come dire la filosofia spesso non viene considerata un granché in alcuni dibattiti perché è per eccellenza la disciplina che pone domande che non dà mai risposte definitive è vero non diamo risposte definitive però il presente riusciamo a interpretarlo abbastanza quindi possiamo dare qualche indicazione su quello che vediamo sul modo in cui insomma la città cambia cambia il modo di viverla e cambiano anche i desideri delle persone perché questo anche un pochino si riesce a vedere osservando il presente certo osservazione che è stata fatta nel quartiere certo Virginia scusa posso solo aggiungere una cosa che forse lì vedo una convergenza ti odia quel microfono grazie una convergenza forse sempre maggiore fra il design e la filosofia perché mentre diciamo il design particolarmente negli anni passati si poneva molto spesso come un problem solver quindi come dire c'è un problema noi vi portiamo una soluzione forse sempre di più ci stiamo rendendo conto che il nostro ruolo è sempre più quello del porre le domande e forse anche di trovare modalità diverse per porre le domande di visualizzare queste domande di renderle tangibili quindi forse ci stiamo avvicinando sempre più come discipline penso al design e alla filosofia proprio perché entrambi ci interroghiamo con mezzi diversi sul presente e dall'interrogazione non quella universitaria ma quella diciamo nel quartiere è nato il vocabolario di quartiere che è uno strumento portato da gruppo di Virginia da Davide all'interno del quartiere con dei tavoli di discussione su alcune parole che in teoria secondo i cittadini descrivono la nostra realtà e Roberto volevo sottoporti queste parole e chiederti quale ti illumina di più e quale secondo te descrive meglio la realtà attuale sono ovviamente parole molto calate nel nostro quartiere ma secondo me arrivano persino nel tuo quartiere seppur distante da noi quindi spazio cambiamento impegno degrado comune patrimonio divertimento senso di appartenenza e memoria sì avevo notato senso di appartenenza perché è una è una parola che non ti aspetti immediatamente anche se mi hanno detto comunità quartiere sono parole che si somigliano si avvicinano ma invece l'idea della città è quella invece del senso di spaisamento per lo più nelle grandi città ci si spaisa invece i piccoli paesini ora in realtà appunto le grandi città sono fatte di quartieri i quartieri non sono paesi hanno un senso di appartenenza diverso che è quello di una rete di funzioni che sono efficaci su un tessuto urbano metropolitano e non è invece la vita del paese che ha tutto un altro ritmo tutta un'altra dinamica quindi questo mi colpisce molto tra l'altro senso di appartenenza è una parola chiave anche in tutta la retorica che si è un po' imposta e non è un male anche nel linguaggio aziendalistico e non è un caso cioè si è capito che le identità delle imprese dipendono essenzialmente dalle reti di relazioni che esse sono perché un'impresa non è una macchina un'impresa è una rete di relazioni quindi è come un quartiere allora anche lì l'impresa funziona se c'è un forte senso di appartenenza c'è un forte senso di identità quindi questo mi colpisce molto l'altra parola fondamentale è memoria anche questo è qualcosa che mi stupisce che gli abitanti del quartiere abbiano scelto di voler approfondire questo tema c'è il bisogno di scoprire dove si si trova si hanno molti ricordi ma si sa che i propri ricordi non coprono la vera identità del posto per cui bisogna collegare i ricordi della propria esistenza nel quartiere che siano magari 5, 10, 20, 50 anni con la storia lunga e i ricordi degli altri e questo è un esercizio fondamentale che si può fare solo comunicando all'interno del quartiere comunicando in una comunità quindi è importante e una delle cose che succede nelle social street penso che sia così anche da voi ti pubblicano in maniera quasi ossessiva foto degli anni 50, 40, 30 il tuo incrocio che non sapevi com'era è una banalità ma poi in realtà mettere in comune un'immagine come questa vuol dire tantissimo il nostro immaginario è proprio fatto di fotografie ormai e di immagini di questo genere ed è fondamentale e tra l'altro il termine memoria era emerso come necessità sia diciamo delle persone che vivono nel quartiere da 40 50 anni sia per le persone come me che sono qua da 10 12 anni ma anche da chi si era trasferito da un anno solo cioè è un senso di radicamento che viene richiesto anche dalle persone che sono appena arrivate nel quartiere e siccome noi siamo in comunicazione con il nostro pubblico vengo a voi ci sono domande classica domanda che proprio spacca il ghiaccio che già io sento salire dalle mie gambe eccola in fondo Giorgia scusa come facciamo con facciamo un radiomicrofono tiene la mascherina proviamo oppure fa la domanda la ripetiamo noi io affino l'orecchio facciamo così perché per covid e cose di questo genere se vuoi ti sento bene vai ciao io ho un background molto simile al vostro non sono un esperto come voi però lì avevo studiato filosofia e la nostra prof improntava quello che ci ha insegnato anche molto sulla legalità sul senso civico e sul bene comune quindi per me quelle cose e anche sulla politica quindi per me la filosofia e la politica sono sempre state legate come lo era all'inizio quando è nato nella città grecia erano filosofi a fare politica cioè questo per me è il vero significato della politica che è molto diverso da quello che attribuiamo oggi io volevo chiedere come vedete voi questa divisione se per voi dovrebbe esistere una divisione come la vediamo oggi cioè per noi questo incontro non sono stasera per me abbiamo fatto politica però per altri che dicessero una cosa del genere sarebbe una cosa schifosa no? per i politici sarebbe schifosa questa cosa cioè gli altri sono loro perché hanno perso il senso vero quindi la domanda sintetizzando è abbiamo fatto politica questa sera in quale modo secondo voi giusto? il dono della sintesi in radio è less is more come dicono i radiofonici prego Roberto allora anche prima quando si diceva un po' questa cosa del ruolo della filosofia se c'è una cosa che la filosofia non deve fare è limitarsi a parlare di se stessa che significa finire a parlare di filosofi morti a filosofi quasi morti è la cosa più inutile che si possa fare e la filosofia vera non è mai stato questo cioè è stato sempre appunto scendere in piazza come faceva Socrate andare a rompere le scatole i propri concittadini cominciare a far domande e domande che riguardavano il bene della città appunto e quindi la politica quindi la filosofia se politica è ovvio ma anche il design e politica non c'è niente di più politico della costruzione e dell'innovazione della progettazione della forma del vivere questa molto forte ma quella della piazza è fortissima trasformare un incrocio di cinque vie in una piazza è un atto politico di una portata rivoluzionaria allora è sempre tutto ciò che comporta un ridisegnare uso apposta questa parola l'orizzonte del pensiero nel luogo in cui ci si trova è pensiero è azione e pensiero insieme e se la vogliamo chiamare politica chiamiamola politica chiamiamola design chiamiamola filosofia veramente qui saltano le distinzioni non ci sono non ci sono barriere le barriere nascono quando si diventa autoreferenziali i filosofi lo fanno quando parlano solo di se stessi o dei propri antenati beh non li ascolta nessuno perché è inutile i designer possono rischiare a farlo non so se questa è una critica che voi fate a voi stessi o se è una cosa che mi immagino io se il designer mira solo all'innovazione fine a se stessa per dire ho fatto la cosa che nessun designer ha fatto prima ma non la cosa che serve ho capito? cioè è una cosa che anche l'artista rischia di fare l'autoreferenzialità del rompere lo schema al solo scopo di rompere uno schema parlo adesso dell'arte ma vale anche per il design la cosa è afferrare la cosa il punto il bisogno la questione il problema ecco non significa risolvere il problema ma significa rivosciarne il senso ed è il motto che poi un grande filosofo del novecento aveva messo in capo la sua filosofia Edmund Husser quando diceva alle cose stesse alle cose stesse significa affernarne o domandare alle cose il senso ma questo non lo fa solo la filosofia appunto lo fa il buon design lo fa la buona arte invece uscire dalle cose stesse vuol dire guardare il proprio umbilico e questo è l'errore che facciamo tutti se posso aggiungere qualcosa forse a me piace proprio andare al di là delle distinzioni cioè di non parlare di design o filosofia ma di pensiero e di azioni e in qualche maniera mi sembra che quello che stiamo delineando è un pensiero azione al di là dell'ambito disciplinare che vuole aiutare la costruzione di un mondo comune e se la politica è la costruzione di un mondo comune è per definizione un atto politico Sì io condivido quanto è stato detto finora e in un certo senso per rispondere alla domanda tutto quello che è discussione su come realizzare il bene comune è secondo me politica cioè quindi stiamo facendo politica nella misura in cui discutiamo su come migliorare la nostra società poi ovviamente non stiamo scrivendo le politiche però non è vero che fare politica voglia dire soltanto mettersi al tavolino e scrivere enorme Davide ti faccio la stessa domanda cioè rivolgo anche a te la domanda che ha fatto dal pubblico c'è un momento in cui la politica si è avvicinata a noi perché assessori personalità della politica anche sotto campagna elettorale si sono avvicinate a noi per ascoltare per capire oppure per vedere come stava andando avanti questo progetto perché è un investimento anche politico questo cioè crederci in qualche modo quello di riabilitare un mercato che è la vocazione commerciale chiaramente metterci dentro invece un'innovazione sociale quindi anche questo è un atto politico? è indubbio che quando diciamocelo se tu hai una comunità proattiva è chiaro che questo fa comodo anche chi fa politica e governa una città perché demanda comunque una parte che potrebbe aspettare a loro a un gruppo di persone quindi questa cosa da un lato e qui ritorno alle critiche che si facevano anche prima nel post nell'auto non dice ma perché devo farlo io cioè perché tu stai demandando alla cittadinanza una serie di cose dall'altro però ti fa capire che c'è ascolto c'è possibilità di sostegno e se c'è un'idea e c'è chi la vuole realizzare hai la possibilità di farlo questa cosa qua ci ha permesso davvero negli ultimi anni di aprire un dialogo per me è totalmente inaspettato con chi governa questa città il fatto di andare bussare alla porta portare un'idea e dire ne parliamo e non dico soltanto l'assessore di turno o il consigliere di turno ma anche poi tutta una parte amministrativa burocratica i tecnici che si mettono a disposizione cioè c'è proprio un cambio totalmente secondo me di paradigma nella Milano degli ultimi 12 anni che poi coincide un po' con le ultime due giunte in cui si incomincia un po' ad aprire le porte a portare le persone che lavorano dentro a portarle fuori il piano dei quartieri adesso non so se qualcuno di voi lo conosce però nel 2018 hanno girato tutta Milano tecnici e politici per raccontare il cambiamento della città ma l'hanno fatto nelle scuole nelle biblioteche aprendo interi weekend in cui i tecnici erano lì a parlare con le persone a spiegare le cose cioè non è cosa da poco quindi sì facciamo politica ma fortunatamente riusciamo a farla anche coi politici altre domande dal pubblico eccola là io traduco c'è il livello 2 diciamo ok chi vuole rispondere Davide mi viene da dire l'anarchia però può essere un livello superiore un po' come pensare a una città un po' del futuro pensare da qui a 50 anni tutta questa proattività cosa porta forse porta davvero a una governance diversa cioè un modello di governo della città in cui il cittadino è molto presente nelle forme di attivismo di aggregazione di cioè quasi se fosse un cittadino governatore forse sì è ancora anarchia forse qua si tocca il punto della burocrazia penso che ci sia bisogno forse di ripensare le istituzioni di ripensare la burocrazia ha molte regole quando fai innovazione sociale spesso ti scontri con delle regole un po' assurde delle cose che non ti permettono veramente di fare innovazione quindi forse mi verrebbe da dire forse il passo successivo è di creare dei piccoli stati di eccezione che permettano sperimentazione a livello locale dove le pubbliche amministrazioni possono andare al di là di alcune regole che adesso non permettono diciamo l'innovazione quindi di poter essere anche più creativi e di permettersi appunto di andare oltre le righe insomma non l'ho cittastato sapevamo che era dietro l'angolo questa cosa lo volevamo mi ero segnato una cosa che aveva detto Roberto quando ci siamo conosciuti che nella fantascienza distopica uso il termine in maniera corretta perché chi leggerà il libro capirà il perché abbiamo sempre immaginato delle città la Blade Runner molto piene molto densamente abitate anche decadenti se vogliamo e invece il futuro che ci stiamo immaginando anche post pandemia dove abbiamo scoperto che gli spazi personali sono molto importanti e anche gli spazi comuni sono molto importanti ci ha fatto proprio cambiare secondo me il paradigma del pensiero che abbiamo di come sarà la città del futuro giusto Roberto quindi siamo stati più bravi degli sceneggiatori di Blade Runner in qualche modo sì e no allora intanto Blade Runner e tutte le distopie sono una denuncia cioè l'immaginario che Blade Runner ti propone non è l'immaginario in cui tu vorresti vivere e per questo te lo rappresenta ti sta dicendo la nostra direzione se continuiamo senza un cambio di rotta sarà quella città completamente spersonalizzata pioggia continua luci al neon che però non ti lasciano intravedere nulla delle persone che incontri e così via tutti i romanzi distopici sono alleati dell'utopia perché anche l'utopia di Tommaso Moro un primo libro la denuncia alla società inglese e la seconda parte invece il disegno della città di Utopo allora questo è la cosa noi siamo dobbiamo essere più bravi degli sceneggiatori di Blade Runner nel senso di non limitarci alla denuncia perché quella è l'altra grande tentazione l'altra grande tentazione del pensiero critico del pensiero filosofico anche del pensiero politico è quella di denunciare e mai progettare o programmare quando la domanda era anche un po' su azione pensiero qual è la parola successiva c'è una lotta o è progetto o è programma e forse io propendo per la programmazione che non per la progettazione perché se le iniziative sono spontanee vengono al territorio sono vive tu non hai bisogno di disegnare tutta la città e pensarla con una testa che immagina il tutto e poi lo realizza no ci sono già le cose c'è già il bene ci sono già le cose buone vanno programmate nel tempo cioè dare loro lo spazio del tempo le risorse il sostegno l'aiuto che serve perché si realizzino nel tempo quindi se avete un'idea e volete progettarla e portarla avanti lo spazio off campus è lo spazio giusto mi sembra che abbiamo creato il lab corretto ci sono altre domande dal pubblico se no con un principio di ibernazione alle mie gambe e alle gambe dei nostri ospiti e di tutti quanti voi qui davanti ricordo i libri che abbiamo presentato questa sera in maniera molto così dialettica ritorno a utopia di Roberto Mordacci provo a dirlo io Virginia designing in dark times and rentian lexicon forse ce l'ho fatta è il mio inglese e voglio ringraziare in ordine sparso chiaramente Roberto Mordacci grazie mille di essere stato con noi Roberto Francesca Pongiglione grazie Università San Raffaele dall'altra parte come giochi senza frontiere Virginia Tassinari del Politecnico di Milano e Davide Fassi del Politecnico di Milano grazie mille e grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi